Beh, devo dire di sì, perché dopo 35 anni di attività in architettura, di cui 17 con professionista, ho avuto modo di farmi un bel fardello di esperienza. E queste mi hanno indotto a candidarmi a questa commissione, perché effettivamente non si può solo criticare, bisogna anche vedere come stanno le cose. Inoltre la gente qui a Poschiavo mi conosce, anche solo essendo anche ispettore dei danni dell'assicurazione cantonale, penso che abbia scelto la mia persona. Già che uno stacco così fra l'architetto Tempini non me l'aspettavo, avevo però presunto che avevo una certa probabilità di entrare, forse con meno di stacco di voti, però di entrare nella commissione di legge. Beh, naturalmente è di mio carattere che se inizio qualcosa lo voglio portare a termine, se magari anche oltre. è chiaro che assumersi una responsabilità, lo so, anche magari con certi sgravi e con certe preoccupazioni, però penso che facendo i lavori giusti, facendo osservare le leggi e lasciare i diritti alla popolazione, non si può sbagliare. Basta essere trasparenti e giusti nelle decisioni da prendere in commissione edilizia.